Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ultimi minuti, poi ci sarà solo recupero a San Siro, Juventus sotto per 1-0, iscrivetevi al canale, like e commenti al video e naturalmente la campanella per essere raggiunti dalla notifica e raggiunte ovunque voi siate, da nuovo contenuto, sono gli ultimi istanti, vediamo se riusciamo in un assalto finale, in una reazione, perché il primo tempo è stato assoluto, beh Doveri però, Doveri qua c'è fallo, prima c'era anche un fallo su Pogba che è entrato in capo negli ultimi dieci minuti col pallone preso con il braccio, ma non l'hai visto. Juve che è sotto, possiamo anche dire meritatamente perché nonostante i tiri in porta siano 4-4, il possesso palla incredibilmente fino adesso a favore nostro seppur di poco, la gara soprattutto nel primo tempo l'hanno fatta loro perché noi diciamocelo, diciamocelo, abbiamo anche l'allenatore in questo caso, sbagliato la formazione iniziale, tant'è che l'ha cambiata subito in inizio ripresa. Non c'è Vlaovic per infortunio, non c'è Kemper per infortunio, però tiene Milik in panchina, gioca col 3-5-1-1 con Di Maria sotto punta, la punta è Chiesa. Ora, è vero che c'è il presidente famoso del Chelsea con Chiesa e Bernardeschi, Chiesa centravanti che vinciamo 1-0 perché mancavano gli attaccanti, però è altrettanto vero che in questo momento Milik c'era e quindi poteva partire dal primo minuto. La Juventus lentissima, una manovra inguardabile nel primo tempo, mai arrivata sulle seconde palle, 5 centrocampisti col centrocampo sempre scavalcato, ma soprattutto Chiesa ha toccato soltanto 8 palloni. Adesso invece ce n'è uno buono davanti, Onana, che gli esce proprio sulle gambe. 8 palloni toccati nel primo tempo della serie che non è che non sono arrivati, è che non è proprio il suo ruolo. E quindi mentre Di Maria ne aveva toccati più di 20 perché rientra e torna a centrocampo, Chiesa ha messo centravanti al momento, in questo momento della sua carriera, non è proprio il suo ruolo. Cambio nella ripresa, primo tempo colpo di testa di De Sciglio fuori di poco e il destro di Kosti sparato dal portiere, ma sono soltanto due sprazzi perché la fiammella non si è mai accesa, la Juve lenta e a tratti imbarazzante. E i tifosi della Juve con quello che stanno combattendo, soprattutto fuori dal campo, a mio avviso si meritano di più. Allegri nel secondo tempo corre a ripari, mette dentro Milik, 4-3-3 con Di Maria e Chiesa alle spalle di Milik centravanti e quantomeno si vede la differenza perché il secondo tempo è assolutamente equilibrato. La Juve prova a fare le sue azioni, ha soprattutto un centravanti che fa da sponda, due tiri abbastanza debolucci, abbastanza debolucci da parte di Locatelli e di Miretti in avvia. Quell'altro di Di Maria, anche lui centrale, è abbastanza molliccio, non benissimo stasera Di Maria rispetto a quelli che sono i suoi numeri soliti. E poi dentro Paredis per Locatelli, impalpabile che ha preso anche il giallo, e appunto negli ultimi dieci minuti dentro anche Paul Pogba. Lautaro, bisogna dire che si è magnato un'occasione abbastanza importante nella ripresa, come se ne era mangiata una, subito pronti via, con i nostri difensori che ce lo sono dimenticato dentro l'area di rigore, così come ci siamo dimenticati Di Marco, che al momento tiene loro in vantaggio e li qualifica, con Kostic ultimo uomo a tenerlo in gioco e non in posizione di offside, 89 e 25, vediamo se c'è ancora la speranza, la speranza è l'ultimo a morire, fra poco sarà il novantesimo, almeno un 3, 4, 5 minuti di recupero, speriamo che bastino quantomeno per andare su elementari, ma sono loro che vanno in attacco con Mkhitaryan, attenzione Gersens in sovrapposizione, un cross addirittura che diventa, probabilmente non volendo, un tiro in porta, palla che scava il caperino, ma esce dall'altra parte del campo, ci siamo, adesso sarà il quarto uomo ad alzare il tabellone a San Siro, 75 mila spettatori, settore ospiti nostro, pieno, tifosi della Juve che hanno provato 4, 4 minuti di recupero, 4, 4 minuti si può segnare, però bisogna tirare in porta. Vediamo Pogba, che viene richiamato da Allegri perché gli dice che deve stare, più alto, dietro al centravanti, insieme a Di Maria e a Chiesa, intanto il tempo passa, calcio di punizione fischiato da Doveri, per la Juve che lo batte, diciamo che fino a questo momento oramai la partita è finita, per fortuna polemiche non ce ne dovrebbero essere, soprattutto in genere quando perdiamo noi, ma non è ancora finita, Alexandro, uno tra i non peggiori questa sera, si è dato da fare, Bremer, attenzione, andiamo a destra con De Sciglio che ha un po' di campo, vediamo se la mette in mezzo, no, Di Maria, attacco per De Sciglio sulla corsia, De Sciglio cerca di guadagnare il fondo, ma è più veloce, Mkhitaryan che devia in rimessa laterale, dai, dai ragazzi, dai, Di Maria vicino alla bandierina del corner, alta deviazione, fallo laterale per noi, comunque la Juventus nel secondo tempo è rimasta in attacco, Rabiot, Bremer, e allora però potevamo anche fare il primo tempo così, siamo alle solite, Rabiot, Di Maria, per Rabiot, dentro l'area, palla leggermente troppo lunga, niente da fare, provano loro il contrattacco, ma adesso pressiamo, adesso pressiamo, lo dovevamo fare subito, subito all'inizio della partita, ah, Doveri, cosa non fischi qua, contropiede, 91-23, aia, aia, 3 contro 2, aia, si allunga però anche Mkhitaryan il pallone, grazie, e lo riconquistiamo noi, fallo, fallo addosso a Danilo, lo vede Doveri, lo fischia e dai il cartellino giallo al giocatore in maglia, nera azzura, 91-38, 91-43, 91-45, la battiamo sta punizio o no? Dai, 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 discutiamo dopo, forza, Doveri, Doveri, fai giocare, e intanto siamo al 92esimo, solo due minuti ancora di recupero, siamo sotto 1-0, un gol ci porterebbe ai supplementari, altrimenti a casa anche dalla Coppa Italia, Paredes, molto basso a prendere il pallone, Danilo, sulla corsia di sinistra, Alexandro, 92-10, Rabiot, verticalizza, ma scivola mili che lasciamo lì un pallone che potrebbe essere buono per noi, attenzione Brozovic, Gelsens, impatto con la palla non benissimo, Correa nemmeno, testa invece in appoggio dietro di Pogba per Danilo, 92-30, Alexandro, sale, passa la metà campo, dai Alex, dai a spingere, Pogba, Milica al centro dell'attacco, Chiesa e Di Maria sono vicini, giro palla, Paredes, con i capelli tutti neri e non è più biondo, attenzione, Di Maria, Paredes, scambiano i due argentini campioni del mondo, Paredes, buono di là per Pogba, siamo ai 20 metri, Pogba, 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 ce l'ha sul destro, sinistro, dentro la gara di rigore, ma tira, cosa passi, tira, manca un minuto e mezzo, neanche, un minuto adesso, tira, 93-5, sono tutti nella loro metà campo, noi siamo di là, Paredes, gira ancora, allarga verso la destra, dove c'è Di Maria, 93-13, Di Maria, Di Maria, si accentra, Di Maria, Di Maria, tocco sotto, morbido dentro l'area di rigore, troppo corto, allontanata, 93-20, cross in area, attenzione dall'altra parte, c'è De Sciglio, ma la palla è direttamente sul portiere, Onana, la branca, in presa alta, 93-31, e qua, se tanto mi dà tanto, diamo l'addio alla Coppa Italia, per colpa nostra, ragazzi, per colpa nostra, ragazze, formazione sbagliata, lenti in campo, primo tempo, completamente lasciato all'avversario, completamente, completamente, secondo, niente di eccezionale, ma pari con una piccola occasione, due piccole occasioni, non c'è più tempo, doveri, fischia, la fine, la Juve esce anche dalla Coppa Italia, iniziano le polemiche, nostre, interne, ci saranno tante critiche su questa partita, lo so, ed è giusto così, iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.